una bella colazione anche con andrea che è mio compa i sano ci conosciamo da quando siamo piccoli e ora si torna alla base sono stati dei giorni molto belli soprattutto circondato da belle persone poi se analizziamo un po' Mariano, Marco, Andrea, lo stesso Roberto sono tutte persone che comunque sono persone che sono un esempio sono un esempio quindi è bello portarsi dietro questo bagaglio è bello trasmettere questo anche a voi e niente adesso eccoci qua si va si va si va ma forse mi ero scordato una cosa ma oggi che giorno è oggi non riesco a ricordarmi che giorno è scusi signor Federico Carli ma oggi che giorno è eh si 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 è venerdì si 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 è venerdì si 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 è venerdì scorsa settimana Lollo ci ha dato delle bombe fantastiche questa settimana per non essere mandata affanculo andate a vedere ve lo taggo qua sotto invadiamolo e vediamo se si comporta bene no vabbè sta pieno quando vi dico che sta pieno si può utilizzare per tutto si può utilizzare per tutto no l'importante che gli date questo no vabbè sta pieno no vabbè sta pieno eh oh no che stai fa che stai fa al tampone non vabbè oh no vabbè oh ma vabbè oh ma vabbè oh dove andà dove andà eh dove andà eh dove sei contento di sono tornato sei contento di sono tornato eh lanci mi un bacio lancia un bacio grande nonna maria grazie ci vediamo più tardi affica nonna maria visto il papa si è dimesso si andrea che mi ha portato che è il phon si no il vibratore ma bello questo ma sei il video che ci posso fare per fare i video mia ci può fare i massaggini al nonno che top bello eh Quanto è bello questo attrezzo Grazie Andri Com'è andato? Tutto a posto Negativo Negativo? Sì Top Se lo sapevo però Preveniamo sempre Eccolo È un giorno importante Sì 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 è Verdi E GQ eccolo qui Ho ricevuto questo premio Grazie a tutti Grazie veramente È stato bellissimo Sì sono detto giuffo A fare una scopetta Io voglio il giuffo come paro al tuo Come la fa? Gesù scherzo Hai fatto il sciaballo C'è la barba Ma non faccio No non ce l'ho Non l'ho portata oggi Però ho il premio GQ Solo per me Da boh Si staccano i cosi Non me lo rompe Ma no Guarda che ti ho portato Magna questo Magna questo Ma non l'hai detto Voglio Dai Magno Non comincia Vabbè a mangiare Ma assaggialo È buono No Adesso è mai cominciare Che quando la sta Non ne voglio Dai E su Magno per te Che non ne voglio Assaggialo Magno Che ne voglio Non ne voglio Non ne voglio Non ne voglio Ah Puttolo via Allora Allora Come è Senti che corco. Rocce En passionate Vai 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 Una Canella Dai Mu complementare Allora Lo sai Ma anche tu Fa E si Non Perché E perché si Ah Che seppia oh quanto è carino eh? eh quanto è carino? eh no? Tonno, mangia un po' di sushi? Toh! mangia un po' di sushi? Toh! mangia un po' di sushi? mangia tu! eh che mangia tu? la pregna! nooo! toh senti... levati! sacchete! com'è? ma stagli in una pallotta? non mangia il bucanazzo e la vede... come mangia? se paga le mani mica non si sa quel che fa! è un biglio e il tuo credo! maaaaaaaaaaa---- negó s*****e debba sushi. mamma mia! di che sa? dei pesci? dei pesci come? dei pesci su frittura! buono? come mangia o no? eh? come mangia? 8 minuti! che è o no? che è o no? e il figlio della mignotta! chi è lui? sto carino! che è? e il figlio della mignotta! che è? che è? Ma è un cazzo, vuoi graffare pure Oh no Mi ha spavorato La tangente Guarda come non si fa a vedere Volevo dire bene gli affari Eh si, non ti amore Con te una c***a Come mi hai rimesso Con tutte queste tangenti Ho capito ma se guadagni tu guadagno anche io Tu chi sei io? Io che so? Socio no? Socio, bravo, bravo, bravo Fermati! Quando vengono i soldi non si arrabbia E' incredibile Se fai così guarda Fermati! Si incazzano, si incazzano Guarda quanto è contento, guarda come in saccoccia Guarda più giù, mettila più giù Eh s***a che se no scappano Scappano? Questo come si muove No! No! Come si muove? Come si muove Come si muove? Come si muove? Come si muove? Stanno a chiedere tutti dove trovare questa maglia Dove la trovano? Non ne so Ti dico io www.carlettolife.com Fate i suoi pap Vai! Allora Questa maglia si trova a carlettolife No, www Questa maglia si trova a www Su www Su www Punto Punto Carlettolife No, carlettolife Su www Su www Carlettolife www www Carlettolife No, www www Vaffanculo Tu e lui Nooo Così la facciamo Nooo Ma che cazzo è Stavolo 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 Senti Ma che cazzo E per fare il massaggio Senti No, questo è tanto la capocca non fa mai Senti, fa il massaggio Beh, ma l'ero con il massaggio Fai per te Fai per te Fai per te Fatti fare il massaggio Ma il massaggio è crudissimo Eh Ma è possibile Vedando la cazzo Ma se Provici dai Senti, senti Ma dattelo per te Senti, senti Sì, ma sto a me non mi sento Senti 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 dal sottopà No, ma nooo Senti dal sottopà Nooo Nooo Ma è il tempo nella tratta Noi adesso qui siamo a Forlì Nella tratta fino ad arrivare a San Severo Grazie, ci dite come il tempo Grazie Federico sei arrivato a casa A proposito Ti sei arrivata D'Arnano Faustino Vi auguro la buonanotte Sono stravolto Ho fatto tante ore di macchina Anche oggi Poi dopo ho avuto un po' da fare Ma sono molto contento di aver visto i miei cuccioloni Domani Domani A pranzo Sarò su un posto speciale Per un evento Quindi Bene, bello Neve permettendo Perché Dice Che nevicherà Boh Ancora Molla Poi vedremo E niente A domani Sempre I numeri 1 Numeri 1 siete Vi voglio bene raga Domani è sabato Ho 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 ho